che sicuramente è presente questa componente ieri facendo il giro tra le 10 aziende che sono presenti mi ha fatto piacere vedere anche persone che hanno cambiato attività e dopo anni si sono rimessi in gioco per portare innovazione, per portare le loro idee sul mercato e questo è molto bello da parte anche di Confindustria Nautica a vederlo perché vuol dire che c'è interesse per il mercato attrazione, questo è un settore fatto di passione quindi vedere che c'è rappresentanza nelle vostre aziende di una fascia generazionale molto ampia ci fa altro che piacere vi ringrazio e vi saluto di nuovo a nome di Confindustria Nautica e vi invito chiaramente a girare sia la parte del padiglione sopra dove ci sono il superiore del B, dove ci sono gli accessoristi dove potete magari creare delle partnership, presentare le vostre idee le vostre innovazioni, sia la parte sottostante di cantieri dove potete anche provare a inserirvi nel mercato è interessante vedere anche che il livello di presentazione delle aziende abbiamo una buona rappresentazione a livello di tecnologia, di innovazione ci sono aziende che hanno presentato dei sistemi ibridi, elettrici aziende che hanno della movimentazione meccanica in tutti i settori, tutti i punti che interessano non solo alla nautica ma sono presenti in tutto il mondo e con particolare attenzione alla nautica quindi benvenuti, buon lavoro e buone presentazioni lascio la parola a Paolo Quattrocchi per un saluto del Lice partner in questa operazione grazie grazie dottor Gianneschi, grazie Confindustria Nautica e Saloni Nautici grazie a tutti voi per essere presenti sono molto lieto di essere qui anche quest'anno all'edizione del 62 del Salone Nautico e dare il mio saluto per l'evento di presentazione delle 10 start-up che sono presenti qui nel padiglione organizzato in collaborazione tra Confindustria Nautica e ICE le istituzioni italiane negli ultimi anni sono particolarmente attente al mondo delle start-up infatti noi come agenzia ICE dal 2019 abbiamo attivato un programma di attività il cosiddetto Global Program Start-up che si sviluppa in un percorso formativo in Italia per poi passare ad una fase più operativa nei principali mercati del mondo e offre alle start-up che fanno domanda che possono partecipare di interagire con la realtà dei principali mercati internazionali e viene offerta a loro la possibilità di proseguire questo percorso per otto settimane quindi due mesi alla ricerca di opportunità per incontrare potenziali investitori di partner o clienti poi l'attenzione che si viene riversata sulle organizziamo partecipazioni collettive mondiali e non ultimo dedichiamo uno spazio apposito per le start-up innovative ovviamente in quelle fiere che hanno un contenuto di innovazione di tecnologia e quindi insomma possono essere una valida base per presentare le start-up che vi prendono parte come in questo caso in questo caso poi non è diciamo quindi pochi giorni fa si è chiusa la fiera di Hamburgo dove abbiamo partecipato insieme con 30 aziende, adesso nelle prossime settimane ci sarà la fiera di Fort Lauderdale, per il prossimo anno abbiamo attivato una programmazione che si svilupperà fra Stati Uniti, Dubai, il 2023 è alle porte ma noi già siamo pronti per essere presenti con le nostre aziende del mondo della nautica e della canteristica navale in tutte le fiere più importanti al mondo. Questo per sottolineare la grande collaborazione che ormai esiste, non è più una novità tra Confindustria Nautica e Agenzia ICE che ho il piacere di rappresentare oggi e che in questo momento vede il motivo per cui siamo qui, è ascoltare la presentazione delle 10 start up innovative che sono state selezionate insieme in collaborazione e che abbiamo tutti quanti interesse nell'ascoltare, per cui non rubo altro tempo al vero motivo per cui siamo qui, quindi ascoltare voi le vostre presentazioni, ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti uno splendido salone e le migliori fortune per la vostra attività. Grazie. Ringrazio il dottor Gianneschi e il dottor Quattrocchi per aver introdotto questo rinnovato evento e ho il piacere di chiamare sul palco a parlare la prima start up Nautica Upgrade. Buongiorno a tutti, sono Luca Conti, cofondatore di Nautica Upgrade. Fare le cose vecchie in modo nuovo, questa è innovazione. Innovazione, digitalizzazione, sono due parole che segnano un'era, un percorso, inarrestabile direi. Sono due parole molto utilizzate, tra le più twittate del momento direi. Diciamo che questo processo, la spinta del governo in questo senso e anche lo stanziamento dei finanziamenti... Vi immaginereste voi oggi una realtà aziendale che non disponga di un servizio come la posta elettronica o semplicemente un sito web? Beh, ovviamente è una domanda evocativa, ci riporta indietro di 20-30 anni. Siamo convinti che la stessa cosa avverrà dopo questo passaggio, dopo questa era digitale, quando tutte le realtà, dalle piccole, medie e grandi impese, accetteranno questo passaggio verso l'innovazione. La nostra startup innovativa è composta da un team di persone che ha deciso di puntare forte verso un settore preciso, quello dei servizi per la nautica. Siamo partiti dal Diporto, un mondo che conosciamo molto bene, siamo partiti dalle scuole nautiche. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere e incontrare alcune delle migliori realtà italiane. Ci siamo confrontati, abbiamo mescolato le nostre competenze con le loro e dopo mesi di sviluppo siamo qui oggi al Salone di Genova a presentare un software completo, uno strumento digitale che prima non esisteva e oggi viene visto con curiosità e attenzione. A soli 10 mesi dal lancio del prodotto, di fatto oltre 6.000 allievi delle scuole nautiche si sono esercitati sulla nostra piattaforma e hanno fatto oltre 2 milioni di quiz e hanno svolto i compiti di carteggio in preparazione alla patente nautica. Ma la cosa più importante è che sono già 40 le scuole nautiche che hanno scelto Nautica Upgrade e hanno cominciato questo processo di digitalizzazione e lo hanno fatto perché hanno riscontrato da subito i benefici dell'utilizzo di un software del genere. Pensate, il tasso di conversione è molto alto secondo noi perché su 10 scuole che hanno attivato la demo gratuita 7 poi hanno deciso di continuare, di restare a bordo della nostra nave digitale e lo hanno fatto perché si sono ritrovati un notevole risparmio di tempo lo hanno fatto perché hanno visto migliorare il loro servizio e lo hanno fatto perché questo tempo oggi lo utilizzano per svolgere meglio azioni che portano profitti in azienda. Di fatto le società di servizi, le scuole nautiche sono aziende dove sono le persone a fare la differenza e se queste persone ritrovano più tempo per fare la differenza, beh, allora la scommessa è sicuramente vincente. Diciamo che il passaggio e l'augurio che facciamo a tante realtà come la nostra è quella di riuscire a rimanere sempre un passo avanti. Nautic upgrade però non è solo uno strumento per scuole nautiche, abbiamo attivato le versioni anche per circoli, associazioni e club nautici dove all'interno di queste realtà non c'è magari il tema della patente nautica ma comunque sono realtà che vivono di persone, situazioni da gestire, allievi, istruttori. Abbiamo implementato delle funzioni che saranno utili ai centri nautici, alle società di charter e anche alle scuole che svolgono attività di sport acquatici. Non finisce qui, Nautic upgrade nel 2023 presenterà la versione per l'agenzia di pratiche nautiche e presenterà la versione per i centri di formazione per i marittimi dove migliaia di professionisti ogni anno svolgono corsi di formazione obbligatori. Grazie, grazie Nautic upgrade e adesso ho il piacere di chiamare sul palco la prossima start up by grips. Buongiorno a tutti, io sono Gloria Bisciotti e oggi vi presento by grips che è una start up nata a novembre 2021 e ha come obiettivo quello di fornire dei servizi innovativi in campo nautico. Prima di tutto vogliamo ringraziare gli organizzatori del salone e i vari partner, in particolare ICE, per questa opportunità di essere qui. By grips nel 2020 ha brevettato l'ESITAC che è un accessorio per imbarcazioni a vela pensato per gli armatori e per l'equipaggio, poiché migliora il comfort a bordo e permette di utilizzare alcuni accessori senza stress. Come by grips abbiamo anche esperienza in campo edile e abbiamo sviluppato una gamma di resine anche per il retrofitting di imbarcazioni a vela e per quanto riguarda la decorazione e il rivestimento degli interni. Oggi vi presentiamo appunto l'ESITAC che è un profilo in alluminio che va abbinato al BOMA su entrambi i lati è dotato di due inferiture, una superiore per il lazy bag e una inferiore per il tendalino è dotato di pratiche fresature che sono dei passaggi per le cime presenti sul BOMA come ad esempio le borosee e i terzaroli e il suo utilizzo comporta alcuni vantaggi. Il primo, quello un po' più tangibile e evidente, è l'utilizzo facile e veloce del tendalino poiché può essere installato e smontato da una sola persona poiché basta prenderlo e inferirlo nella canaletta dedicata e assicurarlo o alle draie o in base a come si prevede il tendalino ai vari sistemi di ancoraggio. Il tendalino può essere utilizzato anche durante la navigazione, mista randa motore in giornate chiaramente meteorologicamente calme, quindi senza mare e senza vento può essere facilmente e velocemente smontato anche in caso di raffiche improvvise. Il tendalino può essere previsto in una maniera modulare oppure intero e può essere messo in base alle esigenze e all'inclinazione del sole su un lato o su entrambi i lati del BOMA. Grazie alle frezzature, ai passaggi sul profilo, l'accessorio è pratico e compatibile poiché non interferisce con le manovre come la fascia di tenuta della bugna randa e le borose e i tersaroli. Grazie sempre alle fresature l'acqua meteorica può defluire con facilità e è anche permesso una ventilazione naturale all'interno delle z-bag e la randa tende ad essere più asciutta e si scongiurano un po' di più muffe e aloni sulla randa. È un prodotto che viene fatto su misura per ogni imbarcazione e il lazy bag in questo caso inferito sul tendalino è più ampio e quindi facilita anche la emainata e la piegatura della randa. Possono essere previste delle luci a led installabili sul profilo che avrebbero un alloggio dedicato per i cavi elettrici poiché questi non passerebbero all'interno del Boma andandosi a incattivire con le manovre all'interno del Boma perciò avrebbero un passaggio dedicato e protetti. È un prodotto 100% fatto in Italia è molto facile da installare su Boma nuovi ed esistenti sia in alluminio composito o legno è molto resistente poiché è in alluminio anodizzato e resiste appunto anche sia a livello meccanico sia agli agenti atmosferici. Grazie, grazie Bygrips Grazie a voi Ed ora Electrical Wave Mi sentite? Salve Io sono Mauro Moroni sono il CEO e il founder di Electrical Wave chi siamo? Electrical Wave è un sistema integrato per l'anautica elettrica convertiamo quindi imbarcazioni tradizionali da motore a combustione interna in elettriche o ibride il team di Electrical Wave è costituito da soggetti non giovanissimi, non siamo ventenni in media siamo un po' più alti dei 40 anni e abbiamo un grande background però in ambito energetico impiantistico elettrico e navale è ad elevato livello a livello italiano quindi siamo molto confidenti di fare le cose fatte bene sin da subito abbiamo la nostra sede ad Ancona Marina Dorica porto turistico di Ancona e la nostra seconda sede è a Milano dove sta uno dei soci abbiamo anche una rete commerciale e tecnica già impostata ci presentiamo per la prima volta qua al Salone di Genova e siamo molto onorati di stare su questo palco però ci prepariamo da più di un anno per entrare sul mercato il nostro approccio è di tipo nautical zero emission perché oltre alla conversione dell'imbarcazione da normale quindi ad elettrica o ibrida ci occupiamo anche dell'infrastruttura di ricarica a terra quindi abbiamo una partnership con B-Charge Plenitude per quello che riguarda la parte di elettrificazione dei porti e delle marine quindi non solo la ricarica degli automobili ma anche la parte di ricarica rapida per le barche elettriche e ogni conversione che faremo sarà certificata da E-Nave Ente Navale Europeo e darà le massime garanzie all'utente finale di avere un prodotto fatto di grande qualità questo è presento anche il nostro gozzo che è andato in mare ieri purtroppo le batterie sono arrivate un po' tardi problemi di shortage di materiale un po' conosciuti lo presenteremo adesso alla regata del Conero il 2 ottobre è un gozzo in questo caso ibrido serie ma potrebbe essere tranquillamente full electric perché ha 17 kilowattora di batterie un motore elettrico 15 kilowatt raffreddato a liquido e anche un tendalino fotovoltaico fatto custom da 1 kilowatt che funziona sia dal range extensor come autonomia del gozzo in una giornata recuperiamo almeno 4 kilowattora oppure se non dovesse bastare abbiamo anche un sistema quindi un generatore elettrico che è in serie quindi come ibrido serie carica le batterie e poi alimenta il nostro gozzo quindi grazie di questa opportunità siamo molto contenti e speriamo in bocca al lupo anche a tutte le altre start up grazie Elettrica Wave e ora Betty Bois Buongiorno a tutti allora io mi chiamo Luca Rovere ho fatto un progetto che si chiama Betty Bois il progetto è nato in Sardegna l'idea è arrivata nel 2017 però la start up è nata nel 2021 è partito tutto perché da un'esigenza da vedista ho la classica esigenza di tutti di trovare una boa inizialmente sapere dov'è prendere una boa e con tutte le difficoltà quando ci sono grossi venti e uno naviga da solo o anche in compagnia la barca è difficile mantenerla ferma quindi trovare l'idea è stata quella di avere una facilitazione all'ormeggio e da lì ho incominciato a pensare a ragionare io ho fatto un brevetto per poter avere una boa che potesse presentare il perno di ormeggio che è quello bianco che vedete là su quando viene utilizzato si solleva di due metri dall'acqua e facilita la presa quindi facilmente uno inserisce la cima da bitta e si ormeggia e allora incominciando a ragionare ho incominciato a pensare come farlo e ho creato un brevetto su parecchie nazioni del mondo il sistema è un sistema chiaramente che deve essere visibile a tutti da un'app quindi da un'app posso verificare tutte le boe sul Mediterraneo sapere quali sono quelle libere e quelle occupate in base alla grandezza della mia barca ho una barca o una boa dedicata a me cioè non c'è più la boa per tutte le barche c'è una boa per le barche fino a 15 metri fino a 30 metri per adesso poi ci saranno quelle più grosse quindi il momento che io sulla mia app vedo tutte le boe decido di prenotarla la prenoto un GBS basico mi porta la boa il momento che sono davanti alla boa sul mio iPhone appare due tasti apri e chiudi quindi la apro il perno di ormeggio si solleva a due metri e poi si posiziona subito dopo in quella posizione lì il momento che decido di andare via lascio l'ormeggio la boa si chiude e non è possibile prenderla da un utente che non sia registrato in caso uno potesse prendere la boa buttandoci su una cima se la boa sente un'inclinazione per 5 secondi nella stessa posizione dà un allarme quindi praticamente è anche una questione di sicurezza io prenoto la boa so che c'è è libera vado la prendo la apro la chiudo come se fosse una camera d'albergo facendo il business plan ho detto io vorrei mettere molte boe però non voglio avere i classici colpi morti i classici blocchi in cemento in mare quindi ho incominciato a lavorare con l'acquario di Genova e con altre università per cercare di creare un corpo morto che potesse non essere un corpo morto ma un corpo vivo cioè una tana per i pesci che in modo che quando il navigante prende una boa possa vedere i pesci ma senza avere delle nozioni da biologo perché non sono un biologo lavorando continuando a lavorare trovando i materiali abbiamo incominciato con il CNR a lavorare sulla piantumazione della posidonia e da lì abbiamo fatto un progetto che si chiama Nautica e Natura insieme per la creazione di oasi marine e quindi c'è una parte green molto importante a cui teniamo molto in modo che si possa pensare che un giorno il navigante sceglie delle zone dove vede dei pesci come per uno che va a vedere un parco nazionale vede i pesci vede una parte un'oasi uno spazio in cui è rispettato pulito se anche l'utente fa un errore e butta una bottiglia di plastica qualcuno va a prenderla successivamente chiaramente essendo una boa condessa internet offre un sacco di servizi perché la boa è sempre connessa all'utente può dare delle internet quindi certo non scarica un film però può viaggiare su whatsapp o sui messaggistica normale allora a quel punto abbiamo creato un'altra parte che si chiama PUC e praticamente mette in contatto le attività commerciali con la nautica io quando vado in barca nessuno mi può contattare a meno che un amico non abbia il numero di telefono oppure io vado sul telefono e guardo un ristorante un meccanico un ospedale e cerco su internet di trovare quello che mi serve io ho fatto un po' il contrario ho fatto in modo che l'attività commerciale possa controllare possa contattare l'utente che naviga in barca che naviga a condizione che navighi attorno all'attività commerciale per un raggio di 30 miglia cioè se ad esempio noi dovessimo contattare qualcuno da qui possiamo contattare qualcuno che naviga attorno a 30 miglia da qua non posso contattare uno di Monte Carlo o di siciliano facendo così spero che ci si creano molte attività perché il book può essere utilizzato da qualsiasi attività commerciale quindi possa ad esempio un meccanico un porto che dice guardate ad agosto non c'è posto però mi si è liberato un posto barca a quel punto manda una notifica un evento un messaggio a tutte le imbarcazioni che sono nella G30 miglia grazie grazie Betty Buoy grazie a tutti e ora e ora iSpace 2O Engineering Buongiorno a tutti sono Giuseppe Carusi CEO e founder di iSpace 2O iSpace 2O è un engineering nel campo nautico che progetta innovazione progetta soprattutto tenendo il focus sull'ecosostenibilità quindi elettrico ma stiamo già buttando un occhio anche all'idrogeno per il futuro il nostro progetto principale è un'imbarcazione su tecnologia all'iscafo che è anche sommergibile quindi ha una versatilità molto alta è in grado di portare 4 passeggeri e di viaggiare sulla superficie dell'acqua in elettrico ad oltre 30 nodi in più potrà immergersi fino a 50 metri di profondità 50 metri perché è lo spettro di luce diciamo che filtra dal sole quindi quella naturale non vogliamo andare a fare turismo a profondità molto alte questo ci permette di mantenere diciamo un tipo di costruzione molto leggera questo mezzo è pesa 3 tonnellate 5 metri di lunghezza ed è carrellabile il mezzo è diciamo rivolto per il momento al market leisure quindi al turismo e al mercato del lusso può essere comodamente inserito dentro ai garage degli yacht ma allo stesso tempo può essere anche utilizzato direttamente da banchina è un mezzo che l'utilizzatore guida da solo non necessita di diciamo di di un pilota quindi diciamo è un mezzo che si gode con la famiglia volendo quindi diciamo che siamo al punto in cui il primo prototipo dovremo averlo pronto per la navigabilità in superficie per i test in superficie a fine ottobre circa dopodiché passeremo ai test per farlo immergere sarà certificato DNVGL quindi LOIDS come imbarcazione natante che ha la facoltà di immergersi siccome è un campo innovativo non esiste un mezzo del genere ci stiamo relazionando col DNVGL proprio per arrivare ad una certificazione per questo tipo di mezzo contiamo di andare in produzione se i finanziamenti lo permettono entro fine 2023 siamo coperti per il momento da un finanziamento Smart & Start in Italia per un milione e mezzo quindi spero di potervelo fare provare a tutti un giorno e spero che l'anno prossimo qui a Genova potremo presentare diciamo il modello fisico di questo mezzo grazie 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 Ispace e adesso Nabis buongiorno a tutti sono Tony Compagno amministratore di Nabis grazie agli organizzatori per questo invito ad un piccolo cantiere nautico che non è questo che nel claim afferma di fare barche in legno di autore allora cosa c'è di innovativo nel fare le barche in legno la risposta è nulla perché è un materiale che da sempre viene adoperato per costruire le imbarcazioni però invece qualcosa se pensiamo che qual è il materiale prevalente adoperato dall'industria nautica quindi c'è spazio secondo noi per fare qualcosa come diceva il collega rinnovando diciamo sulla tradizione qualche tempo fa abbiamo cominciato a ragionare e eravamo partiti con l'idea un po' romantica di fare la barca ecologica un concentrato di tecnologie che acquisissero diciamo tutto ciò che c'è di meglio della tecnologia verdi allora siamo andati alla ricerca tante cose sfiziose friction welding una saldatura diciamo a caldo del legno la caseina come elemento collante perché la proteina del latte sostanzialmente che elaborato in un certo modo può essere adoperata come elemento rinforzante eccetera oppure le celle fotovoltaiche sulle vele eccetera tante cose sfiziose che teniamo sotto controllo poi siamo andati al Sode e abbiamo detto facciamo qualcosa di pragmatico e diciamo teniamo sotto controllo come hub diciamo di attento a ciò che si muove nella filiera perché l'innovazione si realizza poi nella filiera il cantiere il punto di arrivo di processi e di componenti concentriamoci sulla tecnologia del legno e sulle diverse tecnologie del legno facciamo delle barche belle, veloci comode particolarmente attraenti e diciamo che siano anche sostenibili in maniera pragmatica e non ideologica e proviamo a vedere che cosa succede bene il presupposto di tutto questo è che il legno scoperto dall'acqua calda in realtà è un materiale eccellente perché diciamo trattato con le resine è un materiale che dà una solità strutturale che dà durezza che dà leggerezza alle barche è assolutamente competitivo e quindi diciamo puntiamo su quello è un materiale molto lavorabile quindi può essere adattato alle esigenze dell'armatore che ti chiede questo o quello è un materiale che ti dà una grande abitabilità perché il legno è coibenta perché quindi è fresco d'estate è caldo d'inverno eccetera quindi sono tutti elementi per usare il legno e assieme a quello che di meglio offre le tecnologie quindi come vedete non abbiamo un'esclusiva non abbiamo nemmeno bisogno di fare cento barche per diciamo e usarle e usare gli stampi per farne tante dal punto di vista della sostenibilità economica andiamo prudenti nel senso che facciamo i nostri conti però sviluppiamo abbiamo già tre barche una in acqua un 12 metri e 50 con motorizzazione elettrica fatto in strip planking con legno di rocco e cedro canadese molto bello molto divertente diciamo e anche comodo diciamo appealing abbiamo una barca da 10 metri in compensato marino e una barca da 14 metri 75 sempre in produzione anche questa in strip planking con una particolarità di un albero arretrato senza randa eccetera che insomma conoscerete possibilmente ecco questi sono i nostri programmi e le nostre intenzioni abbiamo anche l'idea di comunque di non le escludiamo di sviluppare e mettere diciamo anche a sistema procedimenti che sono in corso e che poi diciamo una volta senza come dire senza fare proclami roboanti se metteremo a punto riusciremo anche eventualmente a mettere a sistema in collaborazione con altre parti ringraziamento anche diciamo una menzione anche i progettisti che ci hanno aiutato in questo avvio che sono Alessandro Vismara Otto Villani e Antonio Cataldi quindi un veterano e due giovani che ci hanno accompagnato e speriamo che continuino in questo percorso insieme a noi e ad altri grazie grazie Nabis e ora Bozzengo grazie Salve a tutti sono Luciano Pergola CEO di Bozzengo una startup innovativa che ha creato il primo comparatore di offerte di vacanze in barca e imbarcazione a noleggio attualmente chiunque voglia organizzarsi una vacanza in barca ha da confrontare decine e decine di siti diversi a livello manuale quindi stare lì vedere le offerte di vari siti appuntarsene Bozzengo è innovativa perché la prima piattaforma è nata sul modello di Trivago per gli hotel che confronta tutte le offerte presenti nel web sia di siti di agenzie online che di compagnie di charter che di portali di boss sharing tutti in un'unica piattaforma in modo tale che l'utente che vuole noleggiare l'imbarcazione o fare una vacanza in barca può trovare tutte le offerte presenti sul mercato su un'unica piattaforma in più per le compagnie di charter più piccoline quindi non ancora molto digitalizzate offriamo un sistema in SaaS un vero e proprio manager gestionale che permette di digitalizzare il loro business quindi il booking online poter streamare le loro offerte sia su Bots & Go che sulle agenzie partner poter effettuare fatturazione elettronica e tanti altri tool siamo online da luglio del 2021 attualmente possiamo confrontare una 20.000 imbarcazioni tra Mediterraneo e Sud America abbiamo registrato il nostro codice sorgente e il nostro marchio il nostro modello di business è basato su un sistema a ricarica prepagata di pay per click quindi ogni utente che andiamo a reindirizzare direttamente sul sito di prenotazione perché la nostra vera e propria differenza oltre ad essere un comparatore che noi non gestiamo direttamente le prenotazioni come fanno le agenzie quindi abbiamo un sistema pay per click per ogni utente che reindirizziamo sul sito di prenotazione nel momento in cui giriamo invece un lead alla compagnia di charter o agenzia partner chiediamo una commissione sul venduto molto bassa proprio perché non gestiamo noi le prenotazioni e poi un abbonamento annuale al nostro sistema INSAS quindi il nostro gestore manager che ha una base di partenza gratuita e poi delle funzioni premium quindi a pagamento annuale ringraziamo ITA e i saloni nautici per averci offerto questa grande opportunità e per averci accompagnato anche in altre fiere internazionali a cui abbiamo partecipato grazie a ITA Bozzengo click compare sale grazie 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 Bozzengo e ora Velettrica salve a tutti sono Roberto Baffigo fondatore e amministratore di velettrica startup innovativa la nostra mission è quella di costruire progettare e costruire sistemi di propulsione ad altissima efficienza elettrici ovviamente ci stiamo già riuscendo perché abbiamo un prototipo che ha navigato più di 3000 miglia in 4 anni e tengo anche a sottolineare con 0 avarie 0 manutenzione il nostro nuovo sistema che stiamo progettando è un cell drive molto compatto che ha la parte di meccanica di trazione quindi il motore completamente sommerso qui in questa immagine è deformato in realtà è molto più lungo nella parte alta c'è solamente l'elettronica di potenza quindi occupa pochi centimetri dentro la barca che è completamente sigillata IP68 quindi totalmente impermeabile non ha nessun liquido di raffreddamento non ha nessuna manutenzione e tutte le parti meccaniche sono dimensionate per durare decine di anni lo venderemo con almeno 4 anni di garanzia anche sulle batterie che forniremo sono batterie a litio ma di tecnologia assolutamente safe perché 48 volt e litio ferro fosfato quindi non c'è rischio di incendio i test che abbiamo svolto sul prototipo hanno dato dei risultati a di sopra delle aspettative progettuali perché abbiamo un'efficienza dell'elica effettiva del 71% che si traduce in un'efficienza overall insomma il rapporto tra l'energia che prendiamo dalle batterie e quella che sposta la barca mediamente sopra il 65% ma con picchi del 68% questo vuol dire che rispetto alla media del mercato dei sistemi di propulsione elettrici noi abbiamo il doppio dell'autonomia solo sulle batterie senza bisogno di range extender questo permette anche di sfruttare molto 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 bene le fonti alternative quindi se uno ha dei pannelli solari ne bastano pochi per aumentare la nostra autonomia il nostro prodotto è principalmente dedicato alle barche a vela ma si può applicare a qualsiasi tipo di barca barche a vela perché? perché navigando a vela si possono ricaricare le batterie anche questo lo facciamo con un'efficienza notevole rispetto al miglior prodotto in commercio noi a 6 nodi produciamo esattamente il doppio della corrente quindi ricarichiamo le batterie in maniera più veloce senza rallentare eccessivamente la barca altri dati molto interessanti no prima dimenticavo il tutto è gestito da un piccolo computer non è con un sistema elettronico che controlla e gestisce ogni parte del sistema con un'interfaccia invece molto molto semplice per cui l'utente non ha bisogno di avere nozioni particolari per gestire tutto quanto viene avvisato sull'autonomia e su qualsiasi particolarità altro dato molto molto interessante è che le nostre eliche che sono progettate ex novo senza prendere nulla dall'attuale tecnologia commerciale ma sono sviluppate appositamente per poter lavorare e rendere al massimo l'abbinamento a un motore elettrico hanno una spinta eccezionale noi abbiamo 31 kg ogni kilowatt di spinta statica quindi quando la barca è obbligata a star ferma perché è arenata su una secca oppure perché ci sono delle condizioni meteo estremamente avverse noi spingiamo quasi 5 volte di più a parità di potenza rispetto a un sistema tradizionale questo dà una grande sicurezza ma dà anche un grande comfort perché l'andatura è molto stabile la barca in manovra è molto molto comoda e facile da utilizzare gli altri dati sono quelli dell'efficienza che vi ho già detto e l'altra cosa è che noi grazie a queste eliche possiamo utilizzare una potenza molto molto bassa quindi il motore è piccolo è più economico il sistema ovviamente ha dei costi di installazione superiori rispetto al sistema tradizionale diesel ma ha dei costi di manutenzione nulli ha dei costi di gestione bassissimi e stando qui a Genova dove ci sono anche oltre qui al salone barche da diporto ma anche navi abbiamo l'ambizione di poterlo applicare anche alle future navi da trasporto a vela grazie grazie velettrica e ora easy sharing buongiorno a tutti sono Giuseppe Labbate cofondatore di easy sharing cos'è easy sharing fondamentalmente noi abbiamo cercato di industrializzare un servizio la locazione nautica che è da sempre radicato nelle nostre coste in arcipelaghi o costiere industrializzandolo diciamo al pari di tanti servizi che esistono su terraferma quindi appunto i servizi di sharing mobility dando diciamo un appeal intuitivo e digitale al servizio stesso easy sharing ha portato sul mercato quest'anno in costa Smeralda il primo servizio di sharing mobility per natanti per imbarcazioni con una flotta di 12 rumoni tutti motorizzati da 40 cavalli specifico 40 cavalli perché appunto come sappiamo tutti sono mezzi che si possono portare anche senza patente e un altro obiettivo di easy sharing è quello di diciamo sdoganare l'elitarietà che si crea di solito nelle locazioni nautiche cioè l'idea che solo pochi possono permettersi di noleggiare un mezzo noleggiare un mezzo nautico sia per costi che per abilità quindi abbiamo più che altro fuso la facilità di utilizzo di un mezzo da 40 cavalli di un gommone di un mezzo di 5 metri e mezzo con 40 cavalli con una sorta di pay per use più che una sorta proprio un pay per use per dare all'utente la possibilità di diciamo sfruttare un turismo esperienziale di dare la possibilità anche per pochi minuti di usare di usare un mezzo e di spostarsi tra un punto di interesse e un altro oltre che ovviamente trascorrere la canonica giornata in mare pagando quindi effettivamente l'utilizzo Easy Sharing quindi lavora su piattaforma l'utente non ha direttamente il contatto con l'armatore come nei sistemi tradizionali ma iscrivendosi alla piattaforma di Sharing Mobility può registrare il suo profilo mettere un metodo di pagamento e direttamente vedere i gommoni disponibili sulla costa dove siamo presenti l'idea è quella ovviamente di scalare su più zone su più archipelaghi e costiere in Italia prima nel Mediterraneo in generale per appunto avvicinarci un po' a quella digitalizzazione che su Tetra Farmer ormai è presente da diversi anni inoltre crediamo che la mobilità condivisa che è propria della Sharing Mobility di anche un plus alla sostenibilità ambientale nautica considerate che per statistica le barche di proprietà si muovono circa 13 giorni l'anno dando più barche in condivisione ovviamente si riduce la presenza di barche ferme nei porti quindi riducendo la congestione dei porti e l'uso di materiali i nostri partner sono lato operatività Yamaha Yamaha e capelli lato sostenibilità World Rise la Halls World Rise che è particolarmente attiva in Cosa Smeralda con loro ci impegniamo anche a diciamo diramare delle campagne di sostenibilità ambientale per un po' formare il nostro target di clientela che è una clientela giovane una clientela che magari si avvicina per la prima volta a mare e che è giusto formare sia lato utilizzo natante sia lato rispetto del mare a 360 gradi grazie grazie C-Sharing e infine Cam buongiorno a tutti io mi chiamo Marco Pisanello sono il fondatore l'amministratore e il responsabile di progetto della mia azienda la Cam e innanzitutto desidero ringraziare il dottor Paolo Quattrocchi dell'agenzia ICE il dottor Alessandro Gianneschi di Confindustria Nautica per averci dato questa possibilità della presenza qui oggi e i saloni nautici per averci accolto in questa splendida cornice il nostro progetto parte da un'esigenza fondamentale per le barche soprattutto d'altura le grandi imbarcazioni imbarcazioni che sono poi da crociera oppure quelli mercantili il trattamento del rifiuto sotto il profilo di quello che è organico tutto quello che ha matrice organica quindi l'umido i residui la carta il cartone e il legno perché il rifiuto è un grandissimo problema per chi naviga quindi la possibilità di utilizzare un sistema che funziona in base a tre principi fondamentali lavorando in un ciclo chiuso ermetico non emette fumi non emette odori e non emette inquinanti il materiale che io posso poi riutilizzare è un prodotto che mi può diventare combustibile a solido secondario quindi dare la possibilità di incrementare la potenza elettrica poi a disposizione delle apparecchiature che stanno a bordo piuttosto che utilizzarlo e questo è un percorso che faremo poi successivamente insieme a due ente a carattere nazionale per certificare il prodotto che otteniamo come edibile dalla fauna ittica sapete benissimo che non si possono disperdere in mare residui e sostanze dal consumo umano perché i pesci non posseggono gli enzimi per digerire questo rifiuto di conseguenza per arrivare alla possibilità di trattare il rifiuto in un certo modo in un modo sostenibile abbiamo adottato questo sistema questo sistema ci permette anche di ridurre lo stoccaggio del rifiuto nel 50% sia come peso che come volume e per i progettisti o per chi pratica la cantieristica sa benissimo che gli spazi e i pesi sono una delle componenti essenziali per la progettazione dei vari natanti noi partiamo da un interesse soprattutto terrestre poi con l'interesse invece che è arrivato dalla cantieristica nautica abbiamo allargato questo prodotto anche a questo settore dal 28 settembre inizieremo la sperimentazione in un comune costiero Ligure ad alta incidenza turistica quindi questo ci permette di dare prova che questo prodotto ottenuto ma soprattutto l'impianto può essere destinato anche a questo settore perciò invitiamo chiunque è interessato a contattarci e poi a venire a vedere il nostro progetto l'impianto che viene installato a bordo è customizzabile quindi non ha obbligo di dimensioni se non certo dimensioni minime lo presentiamo in questa forma che è una forma grezza perché ovviamente non interessa vedere le finiture le finiture le decide poi il progettista le decide poi l'armatore quindi in funzione anche del tipo di ambiente che viene poi creato a bordo e abbiamo un conferimento nella parte superiore e nella parte inferiore invece c'è un'estrazione del prodotto quando non è più utilizzabile cioè quando proprio l'ultimo residuo che è una percentuale veramente minima di quello che io emetto lo possiamo sistemare in ambienti che non siano anche tecnici quindi anche in ambito da cucina proprio perché una delle qualità essenziali è quella che non emette fumi non emette odori la cosa che vi posso dire è che è sostenibile dal punto di vista dell'energia cioè non è un sistema energivoro anzi al contrario è in grado anche di contribuire al sostentamento elettrico quindi ciò che emettete all'interno di questo impianto alla fine può essere anche collegato all'impianto elettrico del nostro natante per dare energia non solo per prenderla io quindi ringrazio ancora tutti voi buona giornata grazie grazie ancora ad agenzia ICE che ha collaborato con Confindustria Nautica grazie a tutti i partecipanti ed ora un altro evento dedicato sempre ad aziende emergenti grazie a tutti i partecipanti grazie a tutti i partecipanti